L'Adriatico è un romanzo, alla lettera, è una costellazione di storie. Una città di mare è naturalmente, soprattutto in Adriatico, un giunto che assicura esattamente la continuità tra l'ambito marino e quello terrestre e tutte le città adriatiche dotate di un porto hanno costruito intorno allo scalo la base delle loro successive attività. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.